good morning anche se direi buon pomeriggio insomma perché non è 25 qui mister master maestro o semplicemente o semplicemente david lynch it's january 19 2022 and it's a wednesday here in naples 55 fahrenheit around 13 celsius and this means that per me non è quella giornata veramente 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 fredda come in questi giorni in questo periodo invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto qualche settimana fa insomma capire quali sono le due pratiche che utilizzo per combattere non di vincerlo come ripeto sempre perché impossibile ma quanto meno di combatterlo riguardo al video sui pensieri penso che ce la faccia sempre separato da questo quindi occhio se poi mi interessa lo carico più tardi qualche ora dopo il report anyway as you just see from the window e anche da quest'altra bellissima inquadratura today per la sesta volta consecutiva se non vorrei sbagliare we have we have once again those beautiful beautiful really beautiful blue skies and golden sunshine anche se ma un po più presto ma tra qualche ora apparirà più dietro lì il sole dietro l'angolo so golden golden sunshine all along the way ovviamente altre tre quattro ore sì bene speriamo di continuare con questo trend una dire in questi casi say that is so from the mythical window with the the colored curtain sublime oggi non la dire green si in effetti il cielo veramente azzurro oggi sopra di me and finally from my mythical keyboard yamaha digx 640 ipg 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 625 have a great day him all the people who follow the channel and the reports si un saluto veramente a tutti mi raccomando il video sui pensieri è sempre separato da questo so again a great day him all these people and everyone too so again a great day him all the people atpuff i a con